Annette O'Toole, nata Annette Toole, è un'attrice statunitense Nasce a Houston come Annette Toole da Dorothy Geraldine Nylon D. William West 2 Jr. Sua madre insegnava danza, che anche lei ha cominciato a praticare all'età di 3 anni, inizia a prendere lezioni di recitazione a 13 anni, quando la sua famiglia si trasferisce a Los Angeles A 15 anni ottiene una piccola parte nella serie This Is The Life Seguono, fino al 1977, diverse apparizioni in numerosi telefilm Il suo primo ruolo nel cinema è quello nel film Smile Compare poi in altre pellicole come Fullin' Around, Stand By Your Man, 48 Ore, Il Bacio della Pantera Nel 1983 interpreta Lana Lang in Superman III Nel 1985 recita al fianco di Barry Manilow nel film TV della Sibiesco Paccadana e in un ponte per terabitiva Nella commedia romantica Prendi il mio cuore ha il ruolo da protagonista Nel 1990 recita in due miniserie della ABC, It, tratta dal romanzo di Stephen King, e dei Kennedys, nella quale interpreta Ross Fitzgerald Kennedy Per quest'ultimo ruolo ottiene un Prime Time and the Award Nel 1993 Ellen Wells in Desperate Justice, nel 1996 ha un ruolo ricorrente in Ash Bridges e nel 2000 è la protagonista della serie televisiva The Huntress A ottobre 2001 torna nell'universo di Superman interpretando Martha Kent, madre adottiva di Clark Kent, nella serie televisiva Smallville, dove rimane come personaggio del cast principale fino alla sesta stagione A novembre 2010 è Veronica, una donna di mezza età affetta da Alzheimer, nella terza stagione di Light to me Nel 1983 O'Toole sposa l'attore Bill J. Singer, dal quale ha due figlie La coppia divorzia nel 1993, sei anni dopo, O'Toole sposa Michael M. Chikin Nelle versioni in italiano dei suoi film, Annette O'Toole è stata doppiata da Grazie per l'attenzione. Iscriviti al Calane